Le fiamme gialle hanno portato a termine una curata e complessa attività di polizia giudiziaria, finalizzata all'individuazione di una bancarotta fraudolenta che ha coinvolto diverse società della provincia regina, operanti su tutto il territorio nazionale. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che una società, mediante scissione, realizzava diverse nuove imprese, trasferendo alle neocostituite le principali attività aziendali, compresi i beni e attrezzature, con il fine quindi di depauperare il proprio patrimonio. Inoltre venivano individuati ingenti prelevamenti, tramite bonifici destinati principalmente ai sogi, circa 3 milioni e 500 mila euro, ed in parte le società della stessa compagnia, nonché riscontrati consistenti prelievi di contante per 800 mila euro. Insieme delle condotte sopradescritte cagionavano quindi il dissesso della società e determinavano l'azzeramento del patrimonio sociale. Inoltre gli accertamenti effettuati hanno anche permesso di individuare Testa di Legno, il rappresentante legale protempore della società attraverso il quale i soggetti destinatari delle misure operavano come amministratori di fatto. Alla luce di quanto descritto il giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Palmi, il dottor Massimo Minniti, emetteva su richiesta del sostituto procuratore, la dottoressa Anna Pensa Bene, ordinanza di custodia cautela personale degli arresti domiciliari per tre soggetti e ordinanza di custodia cautela personale del divieto di dimora per altri quattro soggetti. Inoltre veniva emesso il decreto di sequestro di quattro società, beni e conti corrente per un importo di circa 9 milioni di euro.